milanista milanista ma sentono poco ma tu avevi fatto la campagna acquisti mostruosa vi faremo vedere il dna europeo questo dna europeo siete dei polli siete dei polli cioè niente di meno niente di meno questi vanno fatti tutti i gol tutti uguali tutti uguali tutti uguali c'è proprio il giro che sbaglia il calcio di rigore questo è proprio l'emblema di questa parte il giro che sbaglia il calcio di rigore azione successiva rigore per il dortmund il dortmund lo segna avete sfottuto donna ruma ai paperuma paperu ma niente ha fatto una pavera clamorosa sul terzo gol del dortmund cioè vedi vi va tutto il carma questo è il carma e tu rischi pure di non andare in europa league polli rischi addirittura di non andare in europa league c'è voglio rientro nemmeno in europa league andate pensa al napoli no non me ne fotte mu cazzo perché tanto il napoli domani perde non c'è problemi non c'è problemi ma c'è la qualificazione dell'europa league tu nemmeno in europa league vai stai guaiato milanista stai rovinato ci siete dei polli il dia abbiamo il dna europeo sul contro napola zanudo dna europeo siete una squadra di raccattati c'è voglio ma pioli io quello che mi domando io cioè non è che siete una squadra raccattata perché la squadra del milan è una buonissima squadra ma non è vicino a 4 a 1 addirittura siete una buona squadra ma è quello in banchina che non è buona c'è il volusia d'orto con quattro passaggi è andato in porta voi con 50 passaggi non avete azzeccato niente c'era più 3 1 è tosta da rigerire e tu non sei nemmeno sicuro di passare il turno c'è ti è rimasta una piccolissima speranza di vincere in inghilterra che figura di se vincerai con il newcastle perché il newcastle sta vincendo con il pari saint germain a parigi cioè renditi conto renditi conto anzi forse c'è calcio di rigore per il pari saint germain attenzione calcio di rigore questo vi salva questo vi salva questo vi salva comunque siete una squadra di polli questo iu non ve lo toglie nessuno siete dei polli